La ripresa non c'è e non si intravede neppure all'orizzonte. Le condizioni economiche delle famiglie italiane stanno peggiorando. Dal 2012 a oggi sono arrivate a quota 5 milioni, quelle che non riescono ad arrivare a fine mese. E sono 17 milioni le famiglie che hanno dovuto abbassare il proprio tenore di vita negli ultimi mesi. Il quadro tragico è dell'osservatorio Censys Conf Commercio, secondo cui un nucleo familiare su quattro in Italia ha difficoltà a pagare tasse e tributi e oltre il 72% ha problemi ad affrontare spese impreviste come quelle mediche o per le riparazioni di casa. Per affrontare la crisi, gli italiani tagliano dunque i consumi, dice il rapporto dell'osservatorio. Il peggioramento della capacità di spese è diffuso ovunque, con punte superiori al 70%, non sorprende al sud. E per coprire le spese, dice l'indagine, sono aumentati i cittadini che si sono dovuti rivolgere alle banche per prestiti. All'indomani dell'approvazione in Consiglio dei Ministri, il presidente di Conf Commercio, Sangalli, boccia la parte della legge di stabilità che riguarda la pressione fiscale. Sono deluso, ha detto, perché non c'è una svolta. In Italia occorre meno spesa pubblica e meno tasse, ha spiegato, riponendo la speranza nelle modifiche al testo che potranno essere apportate dal Parlamento. Nel 2014, secondo il calcolo di Conf Commercio e Censys, gli italiani pagheranno più di 4 miliardi in più di imposte, senza contare che la nuova tassa, la Trise 2014, potrebbe costare 2,4 miliardi in più rispetto all'Imu.